Novità per il movimento politico Destra Sanremo che ha deciso di attuare un importante cambiamento che darà più forza e più concreta attuazione a tutti i progetti futuri. Si tratta dell'unione di Destra Sanremo nel gruppo dell'Alleanza. Il significato di questo nuovo rapporto per voi e per il prossimo futuro? Questo rapporto di collaborazione per noi è fondamentale. È un rapporto che è già nato da un paio di mesi in funzione del fatto che con Marco e i ragazzi del direttivo abbiamo sempre avuto una perfetta simbiosi, una perfetta sovrapposizione di idee e di programmi. Quindi in questo momento c'è stata offerta questa opportunità che noi abbiamo colto con grande entusiasmo. Quindi sostanzialmente Destra Sanremo si unirà al gruppo, si fonderà col gruppo Alleanza. Noi abbiamo già fatto la scorsa settimana un'assemblea del nostro direttivo nella quale abbiamo già deliberato la chiusura di Destra Sanremo e l'intenzione appunto di collaborare e di fondersi col gruppo Alleanza. Per noi è una grandissima opportunità intanto perché da un ambito cittadino ci proiettiamo in un ambito provinciale. Entriamo in un'organizzazione e in un'associazione molto più organizzata, presente in diverse città della provincia. Quindi per noi è un motivo di grande soddisfazione e comunque rientra perfettamente in quelli che sono sempre stati gli obiettivi di Destra Sanremo. Quindi creare e unire una destra cittadina e quindi insomma quale migliore occasione per portare avanti i nostri obiettivi che fonderci con Alleanza. Per noi è una grossa opportunità e sono certo che troveremo il modo di levarci tante soddisfazioni, sono sicuro di questo. L'Alleanza è un gruppo forte e coeso con quali principi? L'Alleanza nasce come un'associazione culturale che vuole unire lo spirito di persone che si riconoscono in una destra moderna e che hanno voglia di fare soprattutto per la provincia d'Imperia. Noi lavoriamo su tutta la provincia d'Imperia, abbiamo un consiglio dei soci all'interno dell'associazione che si spandono su tutta la provincia e vogliamo fare, nel senso siamo un po' stanchi dalla vecchia politica, del vecchio gioco di poltrone e preferiamo pensare ad una provincia nuova, a un sacco di cose che possono essere fatte, ci sono delle potenzialità enormi che vogliamo sfruttare e tentare di fare con però le persone perché altrimenti, vi dico sempre in riunione con loro che se rimaniamo in 8 o in 10 non riusciamo a fare niente, se riusciamo invece a coinvolgere le persone all'interno del progetto possiamo toglierci delle belle soddisfazioni. Probabilmente alle prossime consultazioni elettorali vi proporrete ad esempio in primavera a Taggia? Con Taggia ci sono dei colloqui al momento, diciamo che siamo andati un po' tardi per avvicinarci come struttura alle elezioni comunali del 2017 però non è detto che non si possa aiutare qualcuno di valido all'interno dei vari nomi che si stanno facendo su Taggia, sicuramente. Invece per quanto riguarda il resto, ora lavoriamo sul coinvolgere le persone, sul presentare il nostro programma lo faremo in quattro incontri a Bordighera, a Ventimiglia Imperia, qui a Sanremo e ci sono le date sulle nostre pagine Facebook, sui nostri profili e lì conosceremo intanto delle persone, faremo conoscere il nostro programma e da lì alle elezioni poi c'è tempo, prima è meglio fare qualcosa di concreto.